ringrazio anch'io ciascuno di voi in questa serata in cui vogliamo proprio immergerci all'interno delle opere dei documenti principali del concilio vaticano secondo per iniziare il nostro cammino di avvicinamento al giubileo del 2025. Alla fine della nostra serata darò anche altre informazioni riguardo nei passi successivi che compiremo in avvicinamento al giubileo del 2025 sempre sotto l'ispirazione del concilio vaticano secondo. Ora darò la parola progressivamente ai relatori e i relatori verranno chiamati in ordine cronologico di promulgazione delle costituzioni diciamo che probabilmente è il per così dire il l'ordine più logico. La prima costituzione promulgata dunque è stata la Sacro Santum Concilium dunque lascio la parola a Don Roberto Gulino che è docente di liturgia alla nostra facoltà che ci esporrà appunto in breve voi vedrete che si tratterà appunto di spunti, ci sarà una certa dinamicità degli interventi, spunti per così dire sollecitazioni che verranno da tutti i relatori su ciascuna delle quattro costituzioni. Bene, grazie Don Roberto. Buonasera a tutti, è un piacere condividere insieme quanto Saro Santo un concilium ci ha affidato e in questo percorso chiaramente si sottolinea le cose un po' più importanti rimandando come già stato detto a una lettura più attenta. Il concilio ecumenico vaticano secondo è stato un evento di grazia sia per la partecipazione sia per gli argomenti sia per tutto ciò che è stato per la Chiesa. Solo qualche numero, 2594 fra cardinali, patriarchi, vescovi, superiori di istituti religiosi, 460 periti quindi esperti nelle singole materie, 42 uditori anche laici, 104 osservatori e delegati di altre confessioni, 110 stati rappresentati, quindi davvero un'esperienza universale di condivisione e di riflessione guidata dallo Spirito Santo. Qualche foto per farci capire come anche l'impatto fotografico dell'evento è stato caldamente qualcosa di prezioso, di grandioso. all'interno della riflessione dei padri conciliari riuniti all'interno della Basilica di San Pietro e mi piace sottolineare come in alcune foto si vede come questa che oltre alla riflessione c'è la preghiera, c'è un altare, si celebrava insieme quindi davvero una riflessione animata dalla preghiera e dallo Spirito Santo. Il primo documento a essere stato promulgato 4 dicembre 1963 Sacro Santo Un Concilium, documento che riporta nel suo titolo un po' gli scopi del concilio, sapete che i documenti hanno il nome un po' delle parole iniziali ma il tema è quello della liturgia. Sappiamo che la liturgia, anche qui sintetizzo molto, ma è la preghiera ufficiale della Chiesa, la preghiera sacramentale, dei sacramenti, della liturgia delle ore, di tutto ciò che ci rende un unico corpo che prega insieme al proprio capo, il Padre nello Spirito. Per cui noi riviviamo nella celebrazione il mistero pasquale, la grazia della morte, della risurrezione di Gesù, del suo dono sacrificale per la nostra salvezza e questo è in tutte le azioni liturgiche. Nei secoli però per vari motivi si è un po' persa questa consapevolezza. Faccio solo questo esempio, nel Medioevo, siamo nel nono, ottavo, nono secolo, proprio perché la gente non si, diciamo, raccapezzava più, la lingua della liturgia era in latino, il sacerdote era rivolto verso l'abside, non c'erano i microfoni, il latino era conosciuto poco, ci si perdeva, cioè non si capiva più cosa faceva il sacerdote, cosa diceva. E allora Amalario si inventò questa interpretazione allegorica, che cosa vuol dire? Per aiutare a pregare, lui scrisse questo commento alla messa, forse il primo in assoluto, dicendo se il sacerdote, l'esempio della foto, dell'immagine, è piegato verso l'ostia, quello è Gesù che è piegato sotto il peso della croce, che come metodo è meraviglioso perché ti porta a pregare subito, pericoloso da un punto di vista liturgico, perché si stacca ciò che sta facendo il sacerdote in quel momento nel rito, nelle parole, nel gesto, e si fa pregare il fedele con un'altra cosa, prega, quindi ha avuto un grande valore quest'opera di Amalario, ma per dirvi dal nono secolo, questo è un volumetto 1939, sedicesima edizione, non è neanche l'ultima, del Beato Bartolo Longo, che usa lo stesso metodo di Amalario, nono secolo, per spiegare ciò che avviene alla messa. Esempio più comune, il sacerdote esce dalla sacrestia e va all'altare insieme con il chierico, lui lo spiega, Beato Bartolo Longo, 1936, Gesù esce dal cenacolo e va all'orto degli ulivi, non si legge la processione d'ingresso, l'ingresso dei ministri, si associa a un elemento della vita o della morte di Gesù, anche qui solo a titolo di esempio, il sacerdote si comunica, quindi fa comunione con Gesù vivo e vero, Gesù Cristo è seppellito nella nostra bocca, che è una visione, ripeto, a livello spirituale aiuta a pregare, a livello liturgico stride, perché Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, in quel momento facciamo comunione vivente con lui. Quindi anche qui, e concludo, alcuni studiosi, riporto solo questo, descrivono il periodo liturgico nel Medioevo come molto faticoso. Nei giorni di festa solamente pochi vanno alla messa, non rimangono fino alla fine, si accontentano di toccare l'acqua santa, salutare con genuflessioni la Madonna o baciare la statua di un santo. Se si trattengono fin dopo l'elevazione, se ne vantano come di un grande beneficio reso a Gesù. Andare alla messa è un importante elemento della vita di società, ci si va per sfoggiare più begli abbigliamenti, per gareggiare in distinzione dignità e cortesia. Chiacchierare e passeggiare durante la messa devono essere state cose comunissime. Solo due esempi, arrivati fino al secolo scorso, fino appunto al Vaticano II, alla riforma della liturgia, si riteneva valida la messa, cioè si assolveva il precetto, se si arrivava prima il sacerdote scopriva il calice. Era il momento dell'offertorio. È una mentalità che oggi ci fa un po' sorridere, se non inorridire, hanno liturgisti, perché la messa è dall'inizio, dal canto stesso, dal segno di croce, non c'è un limite entro cui posso arrivare con calma, tanto vale uguale. Siamo proprio una visione diversa. Per cui Saro Santo un concilio con i suoi sette capitoli riprende in mano la materia della liturgia e cerca di riorganizzarla, soprattutto facendo emergere il senso teologico. Se nei secoli a volte è stata vissuta come un insieme di regole, di rubriche da osservare, si vuole riscoprire il principio dell'incontro col Signore Risorto, l'esperienza di salvezza. Il Signore che è contemporaneo, che è presente qui oggi e mi salva. Brevemente anche qui nel proemio, oltre agli scopi del concilio Vaticano II, essendo il primo documento riporta un po' tutte le finalità principali dei padri conciliari, ma già al punto 2 la liturgia attua, rende reale, presente l'opera della nostra redenzione. Espressione del mistero di Cristo, dove mistero vuol dire dono d'amore, vuol dire offerta, sacrificio, vuol dire contemporaneamente cena, croce, sepolcro vuoto, risorto. Vuol dire qualcosa che non riusciamo a comprendere fino in fondo, ma che ci si rivela, perché il Signore ci rivela la salvezza di Dio. E ancora nel capitolo primo, dove si tratteggiano con delle brevi ma efficaci e pennellate, abbiamo i principi generali, le colonne portanti della preghiera della Chiesa. Prima sottolineatura, nella preghiera liturgica, liturgia delle ore, celebrazione eucaristica, tutto ciò che celebriamo come Chiesa, avviene la glorificazione di Dio per eccellenza e la migliore santificazione dell'uomo. A volte qualcuno mi chiede, ma Don Roberto qual è la preghiera migliore. E allora qualche novena, qualche... tutto serve, ma non c'è cosa più alta, più profonda, più utile del celebrare bene la liturgia. Il Concilio ci dice l'espressione della massima glorificazione di Dio e della massima santificazione dell'essere umano. Ancora ci permette di attuare, abbiamo già detto poco prima, l'opera della salvezza, non solo annunciarla, ma di viverla, di renderla presente per noi. E questo perché Cristo stesso è presente nella celebrazione. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io ci sono. E noi cominciamo sempre una liturgia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lui c'è. E quando il sacerdote dice il Signore sia con voi, non è tanto speriamo ci sia, ma il Signore c'è. Che ci sia per ciascuno di noi, nel senso sintonizziamo bene i cuori perché Lui è presente, sta a noi cercare di cogliere questa presenza. Ancora, non esaurisce tutta l'azione della Chiesa, certo, non c'è solo la liturgia, ma ne è culmine e fonte. Tutto ciò che la nostra attività ecclesiale, evangelizzazione, carità, qualsiasi cosa che facciamo, deve portarci all'incontro col risorto. E parte da quell'incontro, altrimenti rischia di essere volontariato, solidarietà, filantropia eccetera eccetera. Per far questo occorre partecipare non solo fisicamente, ma prendere parte e mettersi in gioco. Il Concilio usa in Saro Santo un Concilio in questi aggettivi in maniera consapevole, attiva, piena, fruttuosa, più avanti di rappia e tutte pennellate per dire non si può essere solo fisicamente presenti, bisogna attivare il cuore, bisogna esserci con tutto noi stessi. E i riti a quel punto si chiede di snellire, rivederli per farli risplendere di nobile semplicità. Ciò che era una struttura rituale abbastanza complessa, la messa prima durava un pochino di più, quella cantata, si è cercato di renderla più lineare, più semplice. La possibilità di usare per esempio la lingua nazionale, la lingua conosciuta, la lingua italiana, come anche non si può più, cosa che si faceva fino appunto al Vaticano II, utilizzare lo stesso rito in tutto il mondo, perché l'indole culturale, America Latina, l'Africa, l'India, deve essere rispettata. Bisogna pregare con dei gesti che rispecchino quella cultura. Un esempio per tutti, ciò che per noi è lo scambio della pace, che facciamo con un gesto dandoci la mano, in Oriente si ebbe avvertito come una mancanza di rispetto, entrare in uno spazio sacro. L'equivalente per loro è un inchino, è giusto che loro facciano un inchino, non si può imporre la mano anche a loro. Secondo capitolo, una volta tracciati i principi, vedrete che adesso certe cose un po' si ripetono, si affrontano i singoli temi forti della liturgia, la celebrazione eucaristica, il mistero appunto della messa. Ancora un richiamo alla partecipazione, si chiede la semplificazione dell'ordinamento rituale e anche qui che vengono più largamente aperti i tesori della scrittura. Sappiamo che dal Vaticano II abbiamo tre cicli di letture nelle domeniche, anno A, anno B, anno C, due cicli per la prima lettura nei giorni feriali, questo perché prima molti libri dell'Antico Testamento non si leggevano, erano ritenuti difficili. Invece il Vaticano II chiede che si proclami il più possibile la parola di Dio. ripristinata la preghiera dei fedeli, l'orazione universale e la possibilità di concelebrare. Nelle antiche chiese c'erano molti altari laterali perché ogni prete celebrava la sua messa, la sua intenzione, passatevi un po' questa sottolineatura un po', ma è così. L'idea invece è che se siamo insieme, concelebriamo insieme. È inutile che ognuno al suo altare alla sua messa. Terzo capitolo sui sacramenti in generale, sui sacramentali, si richiama un po' a qual è la definizione di sacramento e di sacramentale e anche qui la ricchezza della Chiesa che ogni tappa della vita umana è scandita da un sacramento. La nascita con il battesimo, l'iniziazione cristiana, l'età adulta, la cresima, la confermazione, le scelte di vita, matrimonio, ordine, anche il momento della malattia, l'unzione degli infermi, fino ad arrivare alle esequie proprio come celebrazione sacramentale. Anche qui revisione dei sacramenti, riportarli a uno stile più immediato, che sia comprensibile, che sia di facile appunto celebrazione. Quarto capitolo, l'ufficio divino, o meglio liturgia delle ore. Notate il termine ufficio dà proprio l'idea di qualcosa da fare. Questa era un po' la percezione della liturgia delle ore. È famoso l'esempio del cardinal Richelieu che dice, celebrava la liturgia delle ore una volta ogni due giorni, perché arrivata alla sera di un giorno alle undici, cominciava a fare tutto l'ufficio del giorno, invitatorio, lodi, ora media, vespre, compieta, da mezzanotte a luna, tutto l'ufficio del giorno dopo e per due giorni era posto. Aveva fatto il suo dovere, pregava poi in altro modo letture spirituali, rosari, adorazione, quindi non è che non pregassero, pregavano. C'era la percezione dell'ufficio come qualcosa da fare. Qui si chiede di riscoprirlo nella sua verità. E allora anche qui, opera di Cristo e della Chiesa, ci permette di ritmare la nostra giornata con la preghiera, di santificare il giorno e la notte, si chiede di rivedere l'ufficio, assurda, compieta, fare cinque salmi. La compieta è a conclusione della giornata, ci dicono i padri conciliari, non esageriamo, siamo stanchi, lasciamo ne uno, massimo due se sono brevi, facciamoli bene. L'idea è quella quindi di riportarli a una preghiera reale. Le diverse ore corrispondano al tempo, come vi dicevo, le lodi ma fatte al mattino, i vespri al tramonto. La compieta deve concludere la giornata. Si può far compieta alle sette la sera, perché tanto c'ho l'arignone c'ho da fare. Piuttosto corri il rischio di addormentarti col breviario in mano, ma prova a farla a conclusione della giornata. Ore principali lodi e vespri, si ribadisce al numero 90 sia fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale, cosa che a noi è scontata ma non era così per secoli, l'anima corrisponde alla voce. Quando leggo quelle parole devo pregare col cuore. Si raccomanda che anche i laici reciti nell'ufficio delle letture. Quella che per secoli è stata la preghiera dei preti, dei monaci, delle monache, dei religiosi, è preghiera di tutti i battezzati, per cui sarebbe bene riscoprirla e celebrarla. Capitolo quinto sull'anno liturgico, laddove c'era un po' un sovraccarico di feste patronali, ottavari, novene, processioni, tutto bello, al centro va rimesso Cristo, la sua risurrezione, per cui si ribadisce la Pasqua settimanale, la domenica è il fulcro dell'anno liturgico. Celebriamo nell'anno liturgico le varie celebrazioni della Beata Vergine Maria, dei Santi, ma in loro vediamo il riflesso della Pasqua, quindi a rimettere al centro la centralità di Cristo e del suo mistero pasquale. Sesto capitolo dedicato alla musica sacra, parte necessaria e integrante, non è un appendice, cantare unisce e sul canto, si potrebbe discutere a serata intere, dobbiamo ancora camminare, perché il canto davvero lega, fonde insieme le voci e dovrebbe appunto essere percepito come qualcosa che ci unisce nella preghiera. Allora anche qui che tutta l'assemblea possa partecipare, non vuol dire deve sempre cantare, ma se c'è per esempio un canto polifonico, perché no la voce base deve essere condivisa, conosciuta, deve essere cantata. Ancora il canto gregoriano per eccellenza è il canto della liturgia romana, sono testi della liturgia in canto, ma gli altri generi si possano usare purché rispondano allo spirito della liturgia. Per un periodo agli anni 70 c'era la messa beat, quindi batterie, chitarre elettriche, è durata poco, perché alla fine non aiuta a pregare. Ti può piacere la musica ma è un'altra cosa, qui è una musica per la preghiera. Anche fra gli strumenti l'organo è il principale, anche gli altri strumenti sono benvenuti purché rispondano all'uso sacro, all'edificazione dei fedeli. Ultimo capitolo dedicato all'arte sacra, alla sacra su pellettili, anche qui la Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ma che questa bellezza sia espressione della realtà celeste, per cui anche qui, numero 124, si ricerchi più una nobile bellezza che una mera sontuosità, per cui benvenga qualsiasi stile artistico, è importante che anche per esempio nel luogo sacro una nuova Chiesa faciliti la partecipazione, non è tanto un monumento fine a se stesso, deve aiutare la comunità cristiana a pregare. Ultimo passaggio ma non scontato, in una Chiesa di Firenze ho contato 17 statue mariane, non vi darò mai quale, neanche sotto tortura, ci dicono i padri conciliari in numero limitato, la Madonna è una, che in una stessa Chiesa ci siano 17 statue, mi pare un po' troppo. Concludo quindi sette capitoli che ci aiutano a riscoprire la liturgia come preghiera della Chiesa e per la Chiesa, come opera della Trinità, ora qui vado un po' più veloce, come far memoria, rivivere, attuare la nostra redenzione, come preghiera attraverso un rito, fatto di segni, parole e azioni. Per portarci, concludo davvero, a quello ci dice San Paolo, a un culto anche della vita, che il culto in Chiesa non si fermi lì, che sia prolungato nella nostra vita e sia vissuto in tutto ciò che siamo e che facciamo.